La verità su quel libro O deve essere sotto la custodia del governo degli Stati Uniti Dalla trilogia di Life, il romanzo di Alex Polly Sta nascendo il primo film senza immagini Capisci che si tratta di uno strumento pericoloso È la produzione più innovativa e unica nel mondo dell'audio L'audio movie A quanto ne so, hanno già tentato di sottrarlo a Templar E se finisse nelle mani di un'organizzazione criminale Potrebbe essere anche peggio La storia di Life, attraverso il thriller esoterico di John Templar Rispecchia i tempi correnti Con in più un grande messaggio di speranza Che porti verso l'amore Detective, comprendo il suo punto di vista Ma io rappresento il governo degli Stati Uniti E se intendo controllare quel libro Ritengo di poterlo fare a tutti gli effetti Quindi seguirò il mio protocollo senza ulteriore discussione in merito Lei invece, signor Templar Riceverà un mandato di requisizione del libro Nelle prossime settimane per farcelo avere Molto bene Davide Sono veramente felice di aver lavorato con te Perché mi sono trovato davanti un attore molto capace Una persona assolutamente duttile Nelle sue caratteristiche attoriali E mi è piaciuto il prezioso contributo Che sei riuscito a darmi Nell'ambito della costruzione di questo personaggio Che è Cara Daenna Il sottosegretario alla Casa Bianca Sei stato veramente eccezionale Benvenuto Davide Nel cast di Life Grazie No, grazie a te, grazie a te Alex È stato un vero piacere partecipare a questo progetto A quest'opera che mi ha incuriosito subito tantissimo E il clamore che ha travolto e che travolgerà questo progetto Sarà, credimi, davvero enorme Io in realtà non ho trovato grossa difficoltà Alex A interpretare questo ruolo Perché io sono così Così strunzo, sì Va bene, stiamo scherzando Keith Caradine Molto, molto bello questo personaggio Ti ringrazio per avermi scelto E di avermi inserito nel cast di Life E insieme, uniti, ce la faremo Yeah Audio Movie La realizzazione di una colonna audio Come fosse quella di un film Solamente che le immagini le mettete voi Pensavo questo di te l'altra sera E sono stato tentato di chiamarti Dell'alma ma della disperazione Sarà come assistere ad un film Senza vedere le immagini Mi dispiace, ma io non mi fermerò Con l'Audiomovie Diamo e vogliamo conservare la possibilità All'ascoltatore di continuare ad immaginare Attraverso la propria creatività Ciò che sta ascoltando Grazie a tutti Grazie a tutti.